Omega Constellation Ledis, eleganza e raffinatezza Nel mondo dell'orologeria di lusso, il Constellation Ledis brilla con un'aura di raffinatezza e stile senza tempo. Questo straordinario orologio da polso è molto più di un semplice accessorio, è un simbolo di eleganza, artigianalità e prestigio. Il Constellation Ledis ha una storia affascinante che risale agli anni d'oro dell'orologeria di lusso. Nato come omaggio all'eleganza e alla grazia femminile, questo modello è stato concepito per offrire un'esperienza di lusso e stile senza pari. L'attenzione ai dettagli e la dedizione all'artigianalità riflettono l'orgoglio dell'orologeria di alta classe. Una delle caratteristiche più distintive del Constellation Ledis è il suo design senza tempo. La cassa, spesso impreziosita da dettagli raffinati, è creata con materiali di alta qualità per garantire la sua durabilità e bellezza. Il quadrante, con indici sottili e dettagli luccicanti, è un capolavoro di artigianalità e precisione. Il movimento al quarzo del Constellation Ledis assicura che il tempo sia segnato con la massima precisione e affidabilità. L'orologio è spesso dotato di funzionalità aggiuntive, come la data, che lo rendono pratico e funzionale oltre che affascinante. La cassa, spesso realizzata in acciaio inossidabile o in oro, è lavorata con cura per creare forme armoniose e sofisticate. I quadranti possono essere impreziositi da pietre preziose, creando uno splendore scintillante. Il Constellation Ledis ha guadagnato l'attenzione di molte celebrità e figure di spicco, che ne hanno riconosciuto l'eleganza senza tempo. Personalità influenti nel mondo dell'intrattenimento, della moda e degli affari hanno scelto di indossare con orgoglio questo modello, contribuendo a sottolinearne la sua rilevanza e appeal. Il Constellation Ledis non è solo un orologio da polso, ma un'affermazione di stile personale e raffinatezza. La sua storia affascinante, il design senza tempo e le caratteristiche tecniche avanzate lo rendono un oggetto desiderabile per ogni donna che cerca l'eccellenza orologera. Indossare un Constellation Ledis non è solo un atto di eleganza, ma una celebrazione dell'arte e dell'ingegno che definiscono l'orologeria di lusso. Che sia indossato per un'occasione speciale o come parte del quotidiano, questo orologio è destinato a catturare l'attenzione e ad esprimere la bellezza unica di chi lo indossa. Grazie a tutti.